Anche il Futsal, come tutti gli altri sport, è stato fermato dal coronavirus e così il Futsal Pistoia-Gisinti. Il campionato è stato bloccato e allora andiamo a capire un po' il Futsal Pistoia-Gisinti, come ripartirà e soprattutto tocchiamo comunque anche un altro problema perché adesso il problema è quello dell'impianto perché ad oggi la società non ha un impianto dove giocare la prossima stagione. Intanto chiediamo allo sponsor ufficiale se sarà accanto alla squadra anche nella prossima stagione. La mia idea sarebbe di stare accanto ai miei amici, a questa squadra che ormai è diventata parte integrante della mia attività proprio perché oltre al mio lavoro ho anche il Futsal che mi porta via molto tempo e spero di poter continuare il prossimo anno anche se le difficoltà sono notevoli. Già nei mesi precedenti avevamo manifestato il problema del campo e ora siamo alle soglie con l'iscrizione e ad oggi non sappiamo di che morte morire. Sarebbe anche l'ora che forse qualche istituzione si prendesse la responsabilità di dire perché a questa squadra non gli viene dato un campo per giocare ma non solo a questa squadra ma anche a qualche altra squadra visto che ci sono anche degli impianti idonei sfruttati neanche per il 50% però sono a uso solamente di pochi. C'è qualche alternativa, qualche possibilità di trovare un impianto dove giocare la prossima stagione? Purtroppo alternative in provincia ce ne sono veramente poche. Io con il Presidente abbiamo girato tutte le palestre possibili e immaginabili e palestre che abbiano le dimensioni che a noi ci vogliono non ce ne sono. L'unico impianto è il Palacarrara che in questo momento so che è privo di tante certificazioni che è chiuso e non ancora in grado di poter essere aperto. Attendiamo buone nove come credo l'attenda anche il pistola basket per poterci entrare e fare una bella chiacchierata insieme al Comune e al Basket per trovare una soluzione di risolvere questo problema che ci è venuto a crearsi nell'ultimo periodo visto che Montecatini ha deciso di allontanarci dal Palaterme.